È sceso dall'autobus ed è stato travolto da un'auto. Questo è l'incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada regionale 71 all'altezza di Sant'Andrea Pigli nel quale è rimasto ferito un quindicenne. È sicuro questo tratto di strada? È poco sicuro, perché succedono degli incidenti anche un pochino spesso. È successo poco dopo, le 14.20, il ragazzo di ritorno da scuola una volta sceso dall'autobus è stato investito. Lo studente è stato trasportato in codice giallo dall'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti, oltre al Pegaso, l'automedica, la Croce Rossa di Arezzo e la Polizia Municipale per i rilievi di legge. Il giovane è sempre rimasto cosciente, benché ferito. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma l'investimento torna comunque a riaccendere i riflettori sulla sicurezza della grande via di comunicazione che attraversa la provincia di Arezzo, dalla Valdichiana sino al Casentino. È senza dubbio, infatti, una delle strade più trafficate di tutto il territorio. C'è tanto traffico e c'è tanta velocità per quella. Per esempio, dove lavoro io, la mole di questa signora è stata ammazzata, qui, più là, sulle strisce.